La Biagio regala un tempo e finisce fuoristrada al debutto in una fase nazionale. Per accedere ai quarti, i Rossolu dovranno centrare i blitz, segnando almeno due gol nel return match di mercoledì, in cui il Villa Biagio potrà gestire due risultati su tre. Le assenze incidono sulla prezzazione di Focante e compagni troppo timorosi al cospetto della capolista dell'eccellenza Umbra, che ha ribadito potenzialità di rilievo. Senza i risqualificati, San Polesi e Alessandroni, con i big Cavaliere Rossini in panchina per problemi fisici, Malavenda schiede a tre fuori quota all'inizio, lanciando negozi in attacco al fianco di Prealisi. A centrocampo il Baby Giampieri si assume le responsabilità di dettare i tempi della manovra, ma Parasecoli, Cecchetti e Carnevali aiutano solo a sprazzi la fase offensiva. Sopprendono le mosse di Guastalvino, che lascia a riposo i titolari Gramaccia, Carderelli e il bomber Tomassini, concedendo fiducia nel reparto avanzato al dinamismo di Sisani, che supporta l'esperto Porricelli. Il fulcro della mediana è Goretti, mentre Ciurnelli e Cenerini compongono la granidica coppia centrale difensiva. Abito dell'incontro il signor Mori di Naspezia. Gli Umbri approcciano con maggior coraggio la sfida e vengono premiati alla prima accelerazione dal fiuto di Porricelli, che scarti il cioccolatino offerto da Sisani, bravo a portarsi via l'intera retroguardia locale. Biagio Nazaro 0, Villa Biagio 1, autore della rete Porricelli al 22esimo. Dopo un'ingenua ammunizione, l'esperto attaccante reclama anche un calcio di rigore, ma Mori opta per la simulazione e lo punisce con il secondo cartellino giallo, che obbliga il Villa Biagio a 56 minuti in infruttura numerica. L'episodio favorevole non sveglia la Biagio, che termina la prima frazione con un desolante 0 nel compito delle conclusioni. La pressione dei Rosso-Blu sale nella ripresa inaugurata dal prodigio di Riccardo Agostini, che deve sul palo il diagonale rafficinato di Pieralisi. Lo stesso portiere viene graziato da Mori, che estrae solo il giallo sul suo tocco di mano fuori dall'aria. Malavenda capisce che è il momento di osare e inserisce prima Rossini per elevare il tasso qualitativo del centrocampo e poi Cavaliere per avere più incisività là davanti. Il team di Guastavino non trema nemmeno nel forcing finale della Biagio, che dovrà cambiare marcia nel ritorno per capovolgere il pronostico.